Sabato a Erezze della Frontera, prove ufficiali per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Moto Mondiale 2015. Nelle prove libere del venerdì lo spagnolo Jorge Lorenzo ha ottenuto il miglior tempo, 1'3974, secondo posto per Espargaro e terzo per Crucelov, mentre quarta posizione per la Ducati di Andrea Dovizioso. Mark Marquez attraverà le campioni del mondo in carica e ottavo, mentre Valentino Rossi è sesto. Le prove cominceranno alle 14.00.